Lei è Ilaria, giovane specializzanda in medicina che con altri 40 si turna nella seda vaccinale di Vicenza. Per lei è un'esperienza formativa, specializzanda proprio in igiene e di medicina preventiva e si divide tra la fiera e il lavoro al SISP, il servizio di igiene e sanità pubblica. Mi ricavo delle ore di tempo per venire qui e allo stesso tempo durante la settimana devo comunque dedicare una parte del mio lavoro a tutte le altre attività, quindi per esempio a progettare, una cosa di cui mi occupo è la progettazione delle vaccinazioni in ambiente protetto che vengono fatte in ospedale. Studio, lavoro e il contatto con la realtà vaccinale, che lascia il segno? Vengono a vaccinarsi con uno spirito e una voglia di vivere e di andare avanti senza aver timore del vaccino ma piuttosto vendendolo come un'opportunità per tornare a una vita normale. Ore di lavoro, stanchezza che però non pesano perché si fa comunque parte anche della storia di questi tempi difficili. Per quanto mi riguarda è un'esperienza bellissima che mi sta dando molto da un punto di vista umano e anche da una soddisfazione personale, in quanto penso che anche in futuro tutti noi ci ricorderemo di questo momento storico con grande orgoglio di aver partecipato.